Organizziamo appunto, chiedo scusa, organizziamo visti i tempi così difficili, organizziamo degli incontri per i nostri associati volti a dare degli strumenti per poter essere sempre più competitivi in un momento così spaventoso e uno di questi strumenti è appunto quello della comunicazione commerciale, tutto quello che ci può aiutare a essere più competitivi come dicevo prima perché la comunicazione e la capacità quindi di interloquire, di portare avanti delle transazioni, è un qualcosa di molto importante e soprattutto può aiutare notevolmente gli imprenditori a trovare sempre nuovi strumenti. Quindi ci troviamo a Gavi venerdì 11 pomeriggio e sabato mattina 12 insieme a Botoskic che è un guru a livello mondiale di questo argomento per fare una sorta di seminario, di minicorso, siamo circa una ventina tutti della zona di Novara e speriamo che possa essere molto utile. Ecco, la comunicazione quindi può essere un valore aggiunto per combattere la crisi? Assolutamente sì, beh diciamo che non è il valore che combatte la crisi, è uno strumento all'interno di tutto quello che possono essere le attività da mettere in campo per poter in qualche modo contrastare la situazione sempre più difficile, certamente nella difficoltà che si ha oggigiorno in primis di vendere prodotti o servizi, saper comunicare, saper trattare, saper portare avanti una transazione è un valore aggiunto.